Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot. Allora, nello scorso video Cell è riuscito a far infuriare grazie i 6 junior che stavano massacrando Goku e gli altri Gohan. Gohan si è scatenato e si è trasformato in Super Saiyan di secondo livello. Ora amici miei proseguiremo con quello che dovrebbe essere la conclusione circa del torneo di Cell. Io spero che il video vi piaccia quindi vi invito a lasciare un bel like all'episodio ed inoltre se non siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora direi di iniziare subito. Allora direi di iniziare subito. Un po' di Questa l'ho sentita. 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 aia. Questa l'ho sentita. 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 Questa l'ho 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 sentita. caspita e niente avevo finito no 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 e che cavolo B non avevo mai preso B vabbè non avevo mai preso B 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.